Ti credo perché è abbastanza infame per te. Siamo infami, eh? Tu un po' più di me. Mi hai fatto uccidere tuo marito. Poi mandi Zacchetti a uccidere Lola e forse anche me. E poi qualche altro avrebbe ucciso Zacchetti per te. È così che manovri bella. Ammettiamolo. È quello che vuoi fare stasera, è meglio? Questa musica non mi piace più. Posso chiudere? Puoi fare di meglio, cara. Prova ancora. Forse se mi avvicino un po'... Allora, non ce la fai? Perché non provi ancora? Non dirmi che non puoi perché mi hai amato. No, non ti ho mai amato, né te né nessuna. Sono guasta dentro, mi eri utile, come hai detto. Solo questo è ricco a me. Fino a un minuto. Ma che cazzo fai? Sento che è diversa.